Il grano è morto sotto il peso della concorrenza e delle riduzioni di prezzo e per questo motivo centinaia di agricoltori si sono riuniti al casello A1 Valdichiana-Bettolle per mettere in scena il funerale di un prodotto che deve essere tutelato perché rischia di scomparire. La protesta, con tanto di marcia funebre, carro e barra, è stata promossa da Confagricoltura, CIA, APIMA e cooperative in rappresentanza degli agricoltori di Toscana, Umbria, Abruzzo e Lazio e ha visto la partecipazione di numerosi sindaci e istituzioni del territorio. È un grido di allarme contro una situazione che rischia di mettere in ginocchio i produttori locali già fortemente indebitati, con conseguenze disastrose per l'economia nazionale, ha spiegato il direttore di Confagricoltura Rezzo Gianluca Ghini, presente alla manifestazione. Il nostro grano subisce senza alcuna difesa i colpi di una speculazione di una concorrenza spietate. Abbiamo celebrato il funerale del grano duro, ha dichiarato Massimiliano Gianzanti, vicepresidente nazionale di Confagricoltura. L'andamento dei mercati emette in profonda crisi i nostri cerealicoltori del centro e sud d'Italia, costretti a fare i conti, con una economia dove le perdite accumulate nella coltivazione di questo prodotto sono superiori ai ricavi.